ultimamente si sono moltiplicati gli avvistamenti di verdesche comunemente detto squalo blu corpo leggero snello e idrodinamico la morfologia della verdesca è inconfondibile il dorso di questo squalo è di coloro blu indaco quasi brillante i fianchi e la coda sono blu grigi mentre il ventre è di un bianco molto marcato il muso è allungato e appuntito gli occhi sono scuri grandi e tondi la sagoma inconfondibile da chi va per mare principalmente si nutre di pesce azzurro e di calamari sua preda preferita ma in assenza non disdegna altri molluschi o crostacei la sua presenza anche in acque bassi inseguendo le sue prede ha destato un poco di preoccupazione in questo periodo in cui ancora la presenza dei bagnanti è importante e anche se dal 1580 al 2013 sono stati solo 13 i casi segnalati in cui ha attaccato l'uomo avvistarne la sagoma crea comunque apprensione è pur sempre uno squalo le verdesche sono degli organismi che ci sono sempre stati se c'è qualcuno che va con la barca vela la può incontrare tranquillamente e non dà assolutamente nessun problema se c'è un bagnante non gli dà nessun problema fino a quando il bagnante non la vada da carezzare o la va vicino ci si fa troppo ecco perché questo pesce se si sente in pericolo evidentemente come tutti quanti cerca di difendersi o di attaccare ma però normalmente non sono segnalate delle situazioni di attacco da parte delle verdesche in mare di persone o di bagnanti di qualunque tipo quindi anche se uno va fuori con la barca vela poi per fare il bagno e c'è una verdesca vicino non è che la verdesca gli va a dare un mossa un piede la verdesca ha stato io ne ho visti fino a 70 chili poco più di due metri di lunghezza questi sono rientrano nella norma la maggior parte di quelli che vengono catturati ci sono da 30 chili 35 chili pesce elegante che sta bene che vive tranquillo il mare in genere non va in branchi quindi al massimo ci sono uno due o tre esemplari che stanno inseguendo lo stesso gruppo di pesce azzurro ma non ci sono delle grosse concentrazioni grazie a tutti Grazie a tutti